come credo che i muslimi sono stati dove deve essere fatto il richiamo ai non sono stati all'islamo con cosa? noi cerchiamo ciò che hanno sbagliato nella loro religione e diciamo voi avete sbagliato uno, due, tre, quattro questo è giusto? questo non è corretto questo è il fratello del Marat e io dico a lui, io voglio Marat questa attra e Cristo questa attra e cosa? cosa lui dico? come lui risposta? Dice a che la voce è questa è questa e non finiamo più e non musulmani come cosa deve venire e ricordo i non musulmani come cosa deve venire e risultato e risultato quando ha detto il momento in cui ha detto che ha detto che ha detto il soggetto diciamo non è che la voce è che la voce è la voce è la voce è la voce è la voce ma questi sono gente del libro gente che hanno un libro e una scrittura cosa devi fare con lui? ma C'è prima cosa a cui tutti per invitare. Cosa disse tutte di Sassana? Discuti con loro? Fai vedere a loro quei loro difetti? Offerno gli uccideri fra gli spotter o altro? No, bensì che la ultima cosa come tutto per invitare loro a testimonianza che non le ha detto loro. Cosa disse la Sassana? Dio oggetto dell'Ibro. Dio oggetto dell'Ibro. Io sono divinita a una parola comunale tra voi e voi che non ne durate il sogno se non a me. Ma fumo. Cosa dice. 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 ... ... ... ... il profeta s.a. ha detto che vuoi seguono ciò che è il mio cuore, allora questo sono quello che devi parlare, e ti devi andare a fare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.